Cari concittadine, cari concittadini, il 19 maggio votiamo sulla revisione della legge sulle armi. Le nuove regole migliorano la protezione della popolazione. La Svizzera potrà così continuare a partecipare a Schengen. Tale accordo è molto importante per la nostra sicurezza. Le nuove regole si basano sulla direttiva sulle armi dell'Unione europea. In quanto stato partecipante a Schengen, la Svizzera ha fatto valere i suoi interessi nell'elaborazione della direttiva. In seguito, il Consiglio federale e il Parlamento hanno ripreso le modifiche in modo pragmatico. Per la maggior parte dei detentori di armi, la revisione non cambia nulla. I cacciatori non ne sono interessati e non cambia nulla nemmeno per chi alla fine del servizio militare tiene la sua arma a casa. Le poche novità sono solo di natura amministrativa. E riguardano solo determinate armi semiautomatiche pericolose. Un nuovo formulario, una prova supplementare e forse un'iscrizione al registro cantonale. Tiro in campagna o tiro storico sangottardo, poco importa, le manifestazioni tradizionali di tiro potranno continuare a svolgersi anche in futuro. Le nuove regole riducono il rischio di abuso di armi da parte dei criminali. Tutte le parti essenziali delle armi devono ora essere contrassegnate. In questo modo, per la polizia è più facile stabilire la provenienza delle armi ed è possibile combattere meglio il mercato nero. Care concittadine e cari concittadini, le nuove regole della legge sulle armi non limitano i tiratori, sono pragmatiche e migliorano la protezione della popolazione contro la criminalità. Senza questa revisione della legge sulle armi, la Svizzera rischia di perdere il suo statuto di stato partecipante a Schengen e a Dublino. Il Consiglio federale e il Parlamento non vogliono che questo accada. Solo se continuiamo a partecipare a tali accordi, la polizia e le guardie di confine possono avere accesso ai sistemi di informazione e di segnalazione in tutta Europa. Con un no mettiamo in pericolo questo vantaggio. Per questi motivi il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano di votare sì alla revisione della legge sulle armi.